Benvenuti amici, io sono SalvinPost, oggi siamo alla Domenica Horror con Evil Neighbor Ghost Escape Guardatela qui, è un fantasma Non abbiamo a che fare con i nonni stavolta Non c'entrano niente, nonni, nonne, eccetera, eccetera Abbiamo un fantasma, ogni tanto cambiamo Il problema è che siamo sempre con il neighbor Tutti ce l'hanno con il vicino Praticamente abbiamo il vicino che è un fantasma in questo caso Allora, difficoltà normale, ghost mode mi piace Ok, non c'è il fantasma, eccetera Vabbè, andiamo di normale Il fantasma si muove velocemente quando mi insegue E trappole addizionali nella casa Quindi più trappole nella casa Forza, va bene Che è? Devo uscire da qua? Salva i miei genitori Wow Sotto il letto proprio, mi trovo Eh, eh Che si muove strana Che hai, l'emorroide? Posso uscire? Yeah, c'è un pezzo di scacchi qua Già cominciamo a trovare cose che Che non so a che servono Tizia? Che è? Posso chiudere? Ah, mi nascondo Mi nascondo dentro l'armato Sì, ma io vorrei capire Che ci faccio con il cavallo La, la porto Che è? Che ti stai scartando un tronchi? Non mi nascondereva No! Mamma mia che paura Ma da dov'è che è uscita? Ma da dov'è che è entrata Soprattutto? Ma perché giustamente È un fantasma Aspetta tizia Non mi ammazzare subito È qui? Ci ho perso una vita Praticamente Sono cinque vite Wow Qua possiamo fare qualcosa? Non mi riascuno niente Tizia Non mi ammazzare subito Fammi capire Ma sono io che faccio tutto sto casino Quando mi muovo Qua è una chiave Aspetta un attimo Prendi la chiave Ok Mamma mia che è brutta però È chiusa È tutto chiuso Dov'è che vado? Adesso posso aprire questa Allora Se ho trovato la chiave Da qualche parte dovevo per entrare No Dall'altra parte Questa è chiusa E come esco? Che faccio? Sfondo a calci? Come che adesso l'apri? Ah, perché prima Ha fatto il rumore Che aprivo la porta Dopodichè devo aprire la porta Ecco Qui ci sono i miei genitori Uscite da lì Uscite Devo tagliare le catene Come faccio a tagliare le catene? Qua c'è un super mega letto Qua c'è una cassetta Il box è chiuso E ti pare Chi è? C'è un tre lì Per le candele No C'è un tre No Non sono qui Che ci faccio col tre? Ah Qua c'è un catenaccio proprio Ok Queste si aprono C'è un tre Ma non so che farci Quindi andiamo di qua Queste si aprono No Questa si apre Sì Questa è la stanza di prima Ah perché ho aperto Dall'altra parte Ovviamente Qua posso nascondermi Mi freddo dentro il cassetto Porta Il bagno Chiudi Chiudi la porta Veloce Chiudi la po Le porte non si chiudono più Adesso si Che abbiamo qua? Dentro il bagno? C'è qualcosa bloccato Ecco me lo sblocco Specchio rotto Che sono basso però Ma sono un bambino allora Perché giustamente Devo salvare i miei genitori No Me ne vado Di là Di là Gira 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 Oh ma che stiamo scherzando Me ne vado Me ne vado Non mi puoi Non mi puoi colpire Mi sa che mi ha colpito Hai parato Ma che brutta però Ma che brutta però Vabbè tecnicamente adesso posso uscire da qua Giusto? Sì Che brutta Eh sta visuale fa schifissimo però Qua posso nascondermi Quindi teniamola aperto Allora qua Niente La maniglia Manca la maniglia Manca tutto in questa casa Da qua si scende proprio Me ne vado Me ne vado Tizia malefica Mi chiudo dentro Perché non si giava bisogno? Sta passando di qua M'ha sentito? Non m'ha sentito Ah io devo uscire però Che facciamo? Che facciamo tizia? Tizia? Dove sei? Eccola lì Sembra la casa di Granny Me ne vado Mi nascondo Mi nascondo Aspetta un attimo Prima che esce da lì Mi nascondo qua Esci? Esci da lì O non esci? Fammi capire Che c'è qua? Ok C'è qualcosa Ma ovviamente Mi serve qualcosa Per prenderlo Perché è ardente Vado? Guarda che è grande Sta casa Dov'è lei? Guarda è immensa Sta casa Ho fatto il giro Ho fatto il giro o no? No Mamma mia che è grande Dov'è che andiamo a spuntare qua? Veniamo qua Cucina Qua che c'è? Cos'è? Che sono? Fiammiferi? Quanto meno adesso Mi sta facendo durare di più Via 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 Aspetta Dov'è che? Ah Lì ci sono gli scacchi Il cavallo Probabilmente dovrò metterlo qua Aspetta un attimo Che ho Mamma mia Mi insegue Mi insegue Mi insegue Mi insegue Mi insegue Aiuto Aiuto Un altro pezzo di scacchi lì E quanti pezzi di scacchi mancano? Nascondiamoci Nascondiamoci Veloce 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 Mi seguo ancora? Non sei? Che è? Ma anche dentro Ma sei Sei una barona tizia Ma scusa Se io Mi nascondo Tu non dovresti prendermi Altrimenti che senso ha nascondersi? Sto gioco mi sembra complicato Ragazzi Fatemi sapere Se voi ci avete mai giocato Ovviamente Ditemi quello che c'è da fare Adesso lei è qua Sicuro Non c'è invece E adesso si Guarda lì che spilungona Non mi ha visto però Quindi se non mi vede Tecnicamente non mi Non mi insegue Adesso mi ha visto Mi nascondo E se io mi nascondo Cortesemente Non venire a prendermi Sei andata? Ti sei arresa? Alla mia superiorità? Eccola Tizia? Che fai? Balliamo a carena? Perché non si ruotava i suoi? Tizia? Che facciamo? Avanza su Sta andando per i fattacci sui E io ti seguo A ruota non ti seguo più Via 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 Vi aiuto Ce l'ho dietro Aiuto Aiuto Ce l'ho dietro E io mi nascondo Via 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 E dai Mamma mia Ma è bruttissima Ma se io mi nascondo Perché mi prende però? È velocissima poi Niente Mi sa che Come sospettavo Oggi non faremo niente Le prenderò solamente Come sospettavo Giustamente Perché non è che Potevo completare il gioco Al primo episodio Sarebbe stato troppo bello Eccola là E gira Visuale Niente Sta visuale Poi che non si gira Mi nascondo Mi nascondo Adesso quella mi prende Giustamente Io mi nascondo Mi nascondo E le mi prendo lo stesso No Stavolta l'ho scampata E dai Su Dove sei? Testa di capra Dov'è? Me ne vado Me ne vado Non mi seguire Io devo scendere Però Perché qua Non c'è niente C'è nessuno? Intanto mi apro L'armadietto Non si sa mai Mi devo nascondere Dov'è? Eccola là Vattene via Vattene Vattene a fare Una frittata Io devo andare Di là pure Però Me ne vado Alla parte opposta Tra l'altro Non ho preso Manco il pezzo Di scacchi Me ne vado Nelle altre stanze Va No Me ne vado No Ci ho ripensato Ci ho ripensato Me ne vado Di qua Ci ripensato Mamma mia Che veloce Quanto Ho preso Le trappole Non mi nascondo Va Non mi nascondo Perché mi prende Cioè praticamente Sono morto Perché non riesco A seminarla Tizia Adesso gli chiudo La porta in faccia Tizia Crepa Gliel'ho chiusa Ci ho fatta Stavolta L'ha riaperta Lei però Non ha chiuso No Non mi fare questo È chiusa Apri 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 Ma preso Non mi vedere Ciao Come sei bella È tenera E coccolosa Manco ti si ve Adesso si Sui giochi è difficile Ragazzi Provateci voi Fatemi sapere Nei commenti Se voi riuscite A completare Sui giochi Ovviamente Lasciate sempre Un bel like Mi ricordo Che potete Segui Su la pace Facebook Twitter Siamo tutti Tutti i social Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Ice Cream 3 Finalmente è uscito ragazzi Finalmente è uscito Non vedevo l'ora Di provare sto gioco Allora Musica sempre buona Quello non è cambiato Lingue Tutte tranne che l'Italia Meglio così